Ok, allora oggi vi mostrerò dei trucchetti da acquistare questo gioco. Questo gioco qui, lo consiglio. Allora, praticamente qui ci sono tre anelli legati, costruiti così. Io li farò staccare. Abra calabra! Ok. Abra calabra! Ecco. Poi, secondo trucco. Il tubo senza fine. Allora, come potete vedere, qui è un tubo innocuo. Però viene cambiato il tubo magico, che è anche tubo senza fine. Io ci lancio un piccolo cerchietto. E qui non cade. Io adesso vi faccio vedere che non c'è più. Però, lo farò ricomparire all'altro lato. Ecco qui. Visto? Poi, il terzo trucco è quello dei bicchieri. In ogni bicchiere è contenuto su una pallina. Praticamente io, con la mia magia, le farò sparire. Uno... Allora, come potete vedere adesso, qui non c'è. Qui non c'è. Qui non c'è. Un altro trucco ben risolto. Ah, il piede. Poi, c'è un altro trucco. Il trucco... Oddio. Il trucco della bacchetta. Allora, praticamente, come sapete, la bacchetta è fatta dal lato bianco e dall'altro bianco. Io, con la mia magia, farò diventare qui tutto bianco. Non ci sarà più questa parte. Ok? E avrà... Can avrà? Ecco qui. Un altro trucco che, praticamente, si può fare.